Finita la campagna elettorale, adesso per il sindaco Angelo Danna arriva il peso delle responsabilità, pesanti come Macigni. Ma se gli ostacoli amministrativi sembrano tanti e forse alcuni insormontabili, sul piano politico la portata storica della vittoria di Angelo Danna lascia presagire dinamiche diverse rispetto al passato più o meno recente. Partiamo dal Consiglio Comunale. Angelo Danna potrebbe ritrovarsi con 12 consiglieri pronti a sostenerlo e se vogliamo possiamo già fare una prima distinzione. Ci sono i citizen della prima ora, cioè i quattro eletti nella lista Città Viva, Patrizia Caltabbiano, Giussi Savoca, Orazio Maccarone e Massimo Di Prima e i due di insieme per il bene comune, Armando Castorina e Rosi Finocchiaro. E poi c'è il blocco della seconda ora, formato dai quattro della lista Giarre Viva, Antonio Camarda, Maurizio Rena, Giuseppe Leotta e Francesco Cardillo, a cui potrebbero aggiungersi Giannunzio Musumeci e Francesco Longo. Sul primo c'è una riflessione da fare. Nel pre-ballottaggio non si è schierato, ma nonostante qualche frizione in campagna elettorale, il rapporto del giovane veterano Giannunzio Musumeci, 26 anni ma già alla terza consigliatura, con l'assessore Salvo Vitale resta fortissimo. Un rapporto costruito nel precedente triennio. Un suo graduale inserimento nel percorso di Angelo Danna non è utopia, anzi può essere a breve realtà. E poi c'è Francesco Longo. Nella visione ecumenica e di apertura che Angelo Danna vorrebbe dare a questo nuovo corso, la riconferma del chirurgo alla presidenza del Consiglio Comunale potrebbe essere un segnale forte. Una scelta peraltro già paventata in campagna elettorale. Sulla giunta la riflessione potrebbe essere ancora più netta. Sulla carta il quartetto Giuseppe D'Urso, Piero Mangano, Enza Rosano, Salvo Vitale potrebbe durare cinque anni interi. Tutti e quattro infatti hanno rappresentanza piena in Consiglio. Tutti e quattro hanno competenze specifiche nei loro campi e tutti e quattro partono con una fiducia incondizionata da parte di Angelo Danna. In teoria il tempo dei rimpasti e delle crisette di maggioranza a Giarre potrebbe essere finito. Certo, una cosa è la teoria, un'altra è la pratica. I cinque anni oggi sono lunghi, forse un'era geologica. Però la rivoluzione c'è stata. Una rivoluzione che ha visto solo quattro sopravvissuti. Leo Patanè, Antonella Santonoceto, Fabio Di Maria e Vittorio Valenti, a cui toccherà il ruolo amaro dell'opposizione dura e senza sconti.